B2 Fidget Spinner Ciao a tutti, oggi dovremmo ricordare il Fidget Spinner solid brass elettropriato e la compagnia dice che può girare per più di 5 minuti facciamo l'unboxing e test ok, facciamo l'unboxing questo è il Fidget Spinner viene in una piccola piccola box la compagnia che manufattura questo Fidget Spinner ha l'inspiration da supercar, aeroplane, spacecraft questo Fidget Spinner è fatto con elettroplato, brass con una buona finita mattina questo Fidget Spinner è inspiraato da Stelt Aircraft puoi controllare sull'innovazione di altri modelli come l'Aventor che è expira dal Lamborghini o altri modelli come il Fidget Spinner. all'inizio del primo è un po' meno piccolo che gli altri Spinner ma è molto pesante quindi credo che questa è una razza per cui può girare per più lungo tempo. questo Fidget è un po' più prezzi comparato con altri modelli che puoi comprare ma si sente molto più bene e solido. hanno adesso a loro sito 25$ discount che puoi controllare nella descrizione per il link e per più informazioni. Ma facciamo un test di girare comparato con gli altri Fidget Spinner. questi sono plastiche questo è tutto è tutto LED questo è plastica e poi abbiamo il wonderful stelt. ovviamente non posso girare tutte le 3 Fidget all'inizio però vediamo solo secondi ok ok let's tag the time that's one ah we didn't reach 5 minutes we reach 4 minutes and 40-50 seconds let's do again because of course depends how harder you can spin it alright we'll do again we need to beat 5 minutes just right perfect 5 minutes ok so that's all for this B2 Fidget very smooth also make a cool sound I want to try to do an ASMR video too ok so that's all for this video check in the description for the link you can get 10% off so see you next time for another great review bye